Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 a Torrita di Siena si è tenuta la quarta edizione della moto tassellata torritese organizzata da Motoclub Torrita. Due giornate dedicate al motocross non competitivo con due piste riservate rispettivamente agli adulti e ai più piccoli. L'evento si è svolto nella zona di Refenero Alto con ritrovo in via Massacarrara dalle 9 di mattina fino alle 18 del pomeriggio con una pausa pranzo per i motociclisti.